Salve, sono Alessandro Paschitto, sono l'autore di Opera di Tascalica. Opera di Tascalica è di per sé un tentativo di rappresentazione della realtà che nel suo ripetersi crolla, fallisce, non va in porto. Come questo video di presentazione che, ripetuto per l'ennesima volta, non riesce a recuperare elementi dagli altri video. Io riproduco cose che ho già detto in un'altra prova. Salve, io sono Alessandro Paschitto, l'autore di Opera di Tascalica, Raimonda Maraviglia e Mario Autore. Loro sono i miei interlocutori, insieme lavoriamo alla scrittura di scena. Partecipare al premio Leo de Berardinis a un bando specificamente under 35 è raro, perché ce ne sono pochi. Si può anche morire di seconde fasi, però noi siamo davvero contenti di essere stati selezionati, di poter portare agli occhi di interlocutori reali il nostro lavoro e di poterlo fare nella nostra città di origine, cioè Napoli, all'interno della quale si è ritagliato uno spazio per questo tipo di sguardo. Grazie e a presto. Quando muore una persona cara, io resto impassibile, come se non la fosse. Poi, mi si spezza un'unghia e... Aaaaaah! Grazie.